Venerdì pomeriggio nella chiesa di San Domenico si è tenuto un repertorio spagnolo della chitarra classica. I musicisti argentini Maria Rosario Palmadutto, Elias Saul Dominguez e il maestro Carlos Santi si sono esibiti in alcuni brani classici della musica argentina e spagnola, con le chitarre del luitaio argentino Eduardo Robles.